La paura è passata, non ci sarà un altro 2010. La temuta piena del Bacchiglione non c'è stata. Il livello del fiume questa mattina era poco sopra i 2,80 metri. Nel corso delle ore seguenti il Bacchiglione è salito superando i 3 metri, molto distante da quel limite di guardia che è stato fissato in 4,5 metri e lontanissimo dal superare la soglia dei 5 metri che significa esondazione. A Vicenza si incrociano le dita e per scaramanzia non si vuole ancora parlare di cessato pericolo, ma nella tarda mattinata di oggi era già stato smobilitato il quartier generale dell'unità di crisi che avrebbe dovuto fronteggiare l'emergenza. La situazione naturalmente continua ad essere monitorata, ma almeno di stravolgimenti meteorologici non dovrebbero esserci brutte sorprese. La polizia locale ha anche effettuato dei sopralluoghi senza peraltro rilevare criticità nelle zone che erano andate in sofferenza idraulica. Le strade sono rimaste sempre percorribili, i cittadini continuano a essere informati costantemente attraverso sms. Anche il Brenta nel Bassanese non ha suscitato preoccupazioni. Continua a piovere in tutta la provincia, ma senza particolare intensità. Viceversa, sull'alto piano di Asiago si stanno verificando nevicate record. Quasi 4 metri sono caduti nella zona di Verena, oltre 3 metri anche nelle altre zone del comprensorio.